Young Boys su Manchester City 1-3 Young Boys perdono contro il Manchester City questa partita di ieri di Champions League 25 ottobre 2023 A segnare per Young Boys è stato Mesac Elia nel secondo tempo Per il Manchester City a segnare i tre gol è stato Akhani nel secondo tempo E Haaland che ne fa ben due nel secondo tempo di cui uno su rigore Le statistiche sono presto date Bene, il Manchester ha delle statistiche eccellenti, straordinarie Molto costa su di palla, molti passaggi E una precedente passaggio molto più elevata rispetto agli Young Boys Che miseramente perdono Il risultato secondo in più era, diciamo così, già preventivato Perché sulla carta il Manchester è più forte degli Young Boys Iscrivetevi, commentate, ciao!